Scippi, furti, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e allarmante il grido lanciato dai residenti del quartiere Carbine a Salerno, dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi inquietanti. Ci sono stati negli ultimi otto mesi due furti di auto, un furto di un motorino e sabato è stata scippata una signora. La signora è stata scippata alle 11 di mattina. Le criticità maggiori, secondo Ermanno Minoliti, riguardano i due parcheggi di via Salvatore Calenda, che si trovano sotto i piloni del viadotto autostradale, una zona poco illuminata, e dove anche nel recente passato sono stati scoperti fenomeni illeciti. Soprattutto nella parte terminale del secondo parcheggio, lì è stata riscontrata la presenza, il comune provvedette alla rimozione di un'auto in cui c'erano scatole di siringhe, quindi quell'auto veniva utilizzata dai consumatori di droga per farsi la siringa e poi le buttavano per terra. Noi abbiamo chiesto e chiediamo ancora veramente un intervento urgente all'amministrazione comunale per mettere almeno due telecamere che garantiscono e coprano gli ingressi e le uscite da questa zona. Il comune ha già provveduto ad installare una telecamera nel parcheggio di fronte all'istituto alberghiero ed ha bandito una gara per acquistarne al 350, ma i residenti di Via Calenda chiedono di agire con urgenza per mettere un freno all'emergenza che sta interessando il quartiere.